George Clooney, protagonista indiscusso del Lago di Seo. L'attore americano ieri è stato infatti ospite a Sarnico, per le riprese di uno spot di una berlina di grossa cilindrata, destinato al mercato asiatico. Ai cantieri Riva, diventati per un giorno un set cinematografico, tutto era pronto. Intorno alle 13.30, preceduta da una truppa di cinesi, è arrivata l'auto dell'attore, con i vetri oscurati, ed è subito scoppiato l'entusiasmo delle numerosissime fans presenti. Il bel attore ha infatti concesso sorrisi, stretti di mano e qualche foto. Buongiorno, buongiorno! Ciao! Un veloce saluto prima della visita dei cantieri. Soddisfatti gli operai, ma soprattutto le impiegate, elettrizzate dalla disponibilità di Clooney. La trama dello spot resta top secret, ma è una cosa certa, l'utilizzo di un motoscafo, il mitico Acquarama Riva. Nei giorni scorsi il divo di Hollywood sarebbe già stato avvistato in incognito e in sella la sua moto per un sopralluogo. E se si fosse innamorato del nostro lago, non ci resta che aspettare gli sviluppi, sperando di rivedere il bel Giorgio passeggiare a Sarnico. Buongiorno! Buongiorno!